29 maggio 2051 erano le 7 di pomeriggio davanti alla porta del salone di vetro c'era un uomo piuttosto impacciato indossava un abito grigio sufficientemente stropicciato molto stropicciato appena tirato fuori da una vecchia cantina osservava un manifesto l'università di economia integrale francesco d'assisi facoltà di finanza e poesia benedetto gui è lieta di invitarvi alla festa a un tuffo nel passato economia e impresa agli inizi del secolo ventunesimo unico requisito presentarsi con un abbigliamento consono al periodo storico nel frattempo si stava avvicinando una donna era l'imprenditrice valentina un'amica di vecchia data di paolo negli anni trenta avevano tenuto insieme i primi corsi universi imprenditoriali con programmi di letteratura e arte per studenti di economia e imprenditrici una sfida a quel tempo e così i due iniziarono a parlare del loro passato e sul loro presente ciao paolo come sempre sei in anticipo ma d'altronde tu sei sempre stato in anticipo sui tuoi tempi tu scherzi adesso però tu sai che c'è una storia dietro questo perché oggi stavo facendo lezione di letteratura medievale al mio corso di economia integrale che scusa detto tra noi ma a quei tempi no nel 2020 come si faceva a studiare economia senza conoscere la letteratura medievale o non lo so comunque no però eravamo lì tu sai che le lezioni le facciamo in giardino no nell'aula giardino sul prato e le concludiamo con una meditazione questa volta facevamo la meditazione zen quindi erano tutti sul prato tutti a meditare quando mi riviene in mente la festa del dipartimento allora corri a casa tira fuori questo abito le scarpe anche dal baule indossale corri qui e ho scoperto di essere il primo arrivato certe cose non cambiano mai no paolo in effetti in effetti in quel completo un po ridere fai eh però io ti capisco eh ti capisco guarda te lo faccio vedere qui sulla mia tavoletta per l'inclusione digitale vedi una volta le chiamavamo tablet pensa come come era buffo col tempo e guarda io ero lì con i miei collaboratori nell'azienda stavamo un pochino vedete lo faccio vedere qui inserendo nel bilancio la salvaguardia di una specie di alche marine e prevedevamo l'adozione dell'ennesimo letto di fiume quando una salta su e dice no inseriamo nel bilancio che cosa un budget per un corso per i nostri collaboratori aziendali perché si sa no da quando i ghiacciai sono tornati a crescere i letti i sentieri alpini si sono un po rovinati quindi facciamo aiutare i nostri collaboratori nella salvaguardia anche dei sentieri alpini beh insomma guarda paolo io te lo dico con sincerità da quando nei cda delle aziende sono entrati i filosofi e gli artisti non si può nemmeno più parlare di bilancio ma guarda a me questa cosa fa venire un po la pelle d'oca e pensare pensare che proprio oggi abbiamo cancellato l'ultimo incentivo monetario dal nostro bilancio aziendale una cosa da non credere veramente no veramente ma tu pensa che c'è valentina a quei tempi no tipo negli anni pensa prendi il 2021 cioè la gente lavorava cinque giorni alla settimana otto ore al giorno cioè una cosa da barbari da pazzi cioè oggi prova a chiedere a qualcuno di lavorare per più di quattro ore quattro giorni alla settimana cioè la gente in piazza ci sarebbe la rivolta perché perché chi avrebbe più tempo libero per i corsi ad esempio di studi biblici di letteratura di poesia di arte comunque è complicato parlare e no cioè nessuno avrebbe più tempo diciamo per queste cose ma anche ora tornando noi scherziamo ma tornando seri ma chi avrebbe tempo per la cura degli anziani e dei bambini cioè a quell'epoca ti ricordi che i nostri nonni chiamavano chiamavano queste donne dall'est europea perché loro insomma poverini non avevano tempo no di prendersi cura quindi insomma guarda paolo io ti capisco in quel tempo si parlava solo del denaro ma guarda non solo nelle aziende anche gli stati e gli stati a un certo punto misuravano la crescita del pil con la crescita non so della dell'industria dell'azzardo con la crescita dell'industria delle armi ma veramente cose da non credere io se dovessi pensare oggi di dirlo ai miei figli ma guarda mi viene la pelle d'occa ancora non so se ci riuscirei non so se ci riuscirei poi ti dico paolo e alla fine è andata così siamo riusciti a raggiungere tante cose in questi periodi sì è vero ma guarda io penso nella mia realtà universitaria ai corsi ad esempio quelli di microeconomia no cioè nel 2020 facciano tutti i corsi sui beni privati cioè microeconomia sui frigorifer sui cellulari oggi nel 2051 microeconomia tutti sui commons sui beni comuni e quanto piacciono ai ragazzi nuovi beni comuni i viaggi lunari gli osservatori delle stelle comete cadenti no anche le migrazioni sui pianeti dai pianeti e dei pianeti tutte queste cose lette tramite la teoria dei commons bellissimo ma guarda paolo tra l'altro io ti dico voglio dire nel nostro bilancio una righettina sui profitti ce l'abbiamo anche noi è perché non è che proprio proprio l'abbiamo cancellati tutti però ti dico la cosa che mi piace più di tutti nel nostro bilancio è quella che chiamiamo vocazione inclusiva cioè vocazione inclusiva è quando nel processo aziendale decidi di fare entrare un povero non so le persone che non riescono più di casa perché sono rimaste solo legate alle proprie comunità virtuali oggi pensare di non includere nel processo decisionale un povero equivale quasi non so quello che succedeva trent'anni fa inquinare qualcosa di simile ma poi paolo io ti dico in tutto in tutto ciò se non avessimo preso delle decisioni veramente importanti in questo periodo in quel periodo come ad esempio non lo so l'istituzione del magese planetario per far respirare un pochettino la terra oppure l'istituzione dell'anno sabbatico ogni sette anni con la cancellazione del debito oppure ancora il l'abolizione dei paradisi fiscali oggi si festeggia il ventunesimo anno dall'abolizione dell'ultimo paradiso fiscale beh sicuramente non se non avremmo raggiunto questo risultato poi vabbè un pochino di responsabilità dai ce l'avete anche voi accademici è un pochino almeno parte ad esempio io non saprei come fare senza i corsi di teologia economica per i miei collaboratori veramente non saprei cosa fare no ma neanche io ma no dai anche noi accademici abbiamo imparato cioè sono passati quei tempi in cui gli economisti e gli accademici non si capivano cioè l'università l'altro giorno è venuta un'impenditrice ha fatto questo corso bellissimo in sostenibilità spirituale no e tutti tutti erano estasiati erano tutti così ad ascoltare almeno finché non ha cominciato a piovere perché no paolo no 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 ti prego non mi parlare della pioggia non mi parlare della pioggia l'altro giorno volevamo rappresentare il bilancio sai che adesso il bilancio lo rappresentiamo come forma artistica no allora avevamo organizzato questo bellissimo concerto jazz per raccontare il bilancio jazz no nel nostro giardino nella nostra azienda quando a un certo punto cosa succede piove piove paolo piove abbiamo imparato a raggiungere l'infosfera digitale abbiamo imparato a raggiungere i pianeti quelli più lontani per mandare lassù i nostri studenti a raccogliere fertilizzanti naturali da utilizzare in terra abbiamo creato le tavolette per l'inclusione digitale abbiamo fatto tutto e poi e poi piove e poi due gocce d'acqua mi mandano all'area al concerto jazz capisci il bilancio jazz è proprio vero quello che diceva san francesco l'acqua è sorella acqua con la libertà tipica delle sorelle comunque non è finito la barba è finta non so se sera no seriamente allora il dialogo tra me e valentina è stato divertente ma non è un'utopia non del tutto almeno ed è proprio l'economia di comunione voi qui davanti e che ci seguite da casa che ce lo dite che non è un'utopia perché l'economia di comunione oggi è il futuro già presente in forma di profezia certo è vero avremmo potuto fare un dialogo meno divertente molto diverso parlando no del dell'aumento delle disuguaglianze della relazionalità e spiritualità sempre più marginalizzate nelle nostre società nello sfruttamento crescente delle persone della terra tutte cose vere ma noi abbiamo fatto quest'altro dialogo perché quello non è il futuro che vogliamo noi vogliamo il futuro di questo dialogo qui è quello è il futuro per cui ogni giorno lavoriamo e ci impegniamo per cui tutti economisti e imprenditori che hanno questa diciamo vocazione si impegnano e lavorano noi giovani economisti del 2021 stiamo spendendo gli anni più belli della nostra giovinezza e della nostra intelligenza anche se un po' ce ne abbiamo ci è rimasta perché i nostri figli i nostri nipoti possono davvero trovarsi nel 2051 con me e paolo nella sala vetri della sala alberto ferrucci trovarci lì nella sala alberto ferrucci con me e paolo nell'università di san francesco d'assisi e guardandosi indietro poter sorridere pensando all'economia che i nostri papà i nostri nonni che voi avete creato e poi ringraziarli e ringraziarvi per aver speso la vostra vita per rendere l'economia migliore più civile e più di comunione grazie